Questo è un contributo tratto dallo spettacolo Spancati del 2019, sono Sbaglio Fabrizio, salto a un pubblico di ragazzi. Ecco, facciamo anche un picchino, faccio un po' il corretore di bozza. Il primo hai detto educazione digitale, ma ovviamente volevi dire educazione finanziaria. No, io volevo dire educazione finanziaria, ho detto educazione digitale. Ed è digitale, ma ci sta, ci sta, si digita tanto.